oee bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video cos'è devo fare io in queste condizioni prima mentre credo più pistole ma non ce la faremo mai devono smettere di uscire le armi che non devono essere inserite in questa modalità iai ai ai no tengo di nero sarà per forza gente a torri faccio già un lanciarazzi che non mi sono neanche accorto che ce l'avevo per scusarmi faccio una chi con lanciarazzi vado lo sapevamo tutti dai lo sapevamo tutti dai lo sapevamo tutti lo sapevamo tutti dai cazzo dai ma beh ogni volta perché 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 è un classic xyuder questo nel senso perché perché è uno xyuder classico è uno xyuder classico è uno xyuder classico da ihi sono quasi quattro anni giochi a forda e ti tiri ancora l'rpg in faccia o signori signori adesso scendo e vinco la legna è il tipo della legna ragazzi abbiamo finito la legna ho dovuto ordinare 2 tonnellate di legna Ok, con calma ragazzi, è il falegname, falegname, falegname lo, falegname lo, falegname lo, falegname lo, falegname lo, falegname lo, come cazzo si può dire, andiamo, non è facile da dire, andiamo, vai, 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 la vinco, raga ho detto che ho un pompa blu, basta, basta un pompa blu signori, easy, easy E' praticamente vinta, ma tra l'altro non ho ancora trovato un lama oggi ragazzi, non è che non gli hanno messi in questa modalità il lama, perché non ce n'è neanche uno, oh raga ma ve lo ricordate il, la tavola da surf, come veicolo, che pare tipo lo snowboard, ma porca miseria, mi serve un secondo Minchia se ci fossero le pallette piangerei, ok ragazzi, easy, easy, non molliamo, non molliamo, e vai Questo qua che mi è venuto a prendere, ha preso il pene, c'è un tizio Ma guarda che c'è il genio della lampada, ah non è il tizio, prendiamo la taglia, prendiamo la taglia, ma non tende ad andare Allora spaz, easy, taglia, andiamo, adesso spacco tutto con lo spaz raga, devo riuscire a chiudere la panina con le clinger Porca, la doppietta leggendaria è una delle armi più strane del gioco, perché a volte fa due miliardi, a volte non fa niente Via così, via così, dov'è la mia taglia? La mia taglia è completamente all'esterno, la vado a prendere Vado Minchia ragazzi ho fame Ho proprio fame Andiamo dalla taglia Andiamo dalla taglia No, le clinger mi servono per chiudere la partita Forza Minchia lo vado giù a prendere Eccolo Eccolo Buongiorno amore mio Aspetta che ammazzo questo, sa giù la pasta? Ha riftato Signor Signore è una pasta gamberi e zucchine Il gamberetto Il gamberetto Quando lo vai a masticare Ti rilascia tutto il profumo del gambero Ripartiamo Concentrazione Concentrazione Con calma signori, con calma Io lo prendo Ce la posso fare Ho preso il bundle di Joker solo per il piccone e per la skin del Joker Che è veramente bello Ma perché c'è un P90? Andiamo Non dovrebbe esserci un P90 La modalità è fuori magazzino Ma che cesso c'è a fare il P90? Vai Mi sembra tutto clean dietro Siamo in 5 e 4 team Bene Ma basta Finca Distrutto L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Dov'è? Vado a prendere Vediamo quanti ne hai ancora di rift Tutti e quattro da soli Minchia, ti va bene che Andiamo Non ho veramente parole Vai, 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 vai L'ultimo 1v1 1v1 Piano Piano Ce la devo fare Ce la devo fare Ok Sei serio? Signori E la va A vincere Con le Klinger Con le Klinger Woohoo A vincere 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 A vincere